Buongiorno a tutti, mi chiamo Pietro Dion, sono venuto da Olanda e sono gestato in Italia in totale 47 volte, posso parlare alcune parole in italiano, ma per fortuna c'è anche lei perché ci sono anche tante parole che ancora non uso così spesso. Prima di dire qualcosa vorrei mostrare un film che spiega un po' quello che capita a Wences. Wences è un istituto di ricerca internazionale in cui le compagnie e gli istituti di knowledge co-operate in order to develop a break-through tecnologie in the field of sustainable water treatment. The collaboration between over 100 companies and universities in Wences results in innovative solutions for the ever-growing water problems in the world. For water treatment you need many know-how disciplines and cooperation between all these universities but also between all these companies which are active in this field is required and only by this cooperation, this joining of forces, this synergy, it is possible to come to these breakthrough innovations that the world needs. So our vision is that we have to facilitate and enable companies and universities to actually find each other and come up with solutions. The program of Wences focuses on developing solutions for the global water crisis. Cooperation between know-how disciplines is crucial in that regard. Wences connects science and entrepreneurship. Companies from the water sector define Wences research projects while the research is carried out by European top universities in the laboratories of Wences. The research projects result in inventions which return to the companies in the form of patents. Companies develop these patents further and introduce the new knowledge into the marketplace and with that into society. This way new inventions are quickly translated into applied technologies that create a better world. My passion was the separation of wastewater streams so that we can treat water in a different way so we are more efficient, we are recovering resources from wastewater and the opportunity to do that was at Wences. So I didn't have to think twice, I just come. The research in Wences leads to new technologies and new business, but also to impressive scientific results. For instance, the scientific papers published by the Wences researchers are quoted five times more often than the average papers in this field. The cooperation between various scientific disciplines leads to cross-fertilization with new insights between the researchers and their supervisors. The results are new creativity and out-of-the-box ideas. We are very well known for our blue energy project and that is a technology where you mix fresh water and salt water to make electricity. Another project is the black water project we did in Snake. So we helped the company to develop a treatment technology if you separate toilet water from the rest of the household water. And in this way you can recover phosphates and energy. And this is a very successful project because they are upscaling it now to about 200 houses and there is interest of that from all over the world. Fourteen companies active in the water technology field are located in this former church. Most of them are start-ups, often based on know-how developed in Wences. These knowledge-intensive companies are likely to become exporting companies in the near future. The Water Alliance is also located in the church. In this organization related companies, know-how institute and governmental bodies cooperate closely in the operation and formation of a water campus. This campus will become the focal point of the European water sector. I think the synergy between those companies, meeting each other informally but also formally, is very important to develop your technology into a product and to find a market quickly. Time to market is essential and when you are, let's say, out there on your own, you have to find it out all yourself. And here, with 14 colleagues, you can chat, you can ask, you have meetings in order to solve, maybe minor problems, but problems that are for an entrepreneur, can become major if they don't find the answer. The companies in the church develop and market technologies, which typically have their origin in research from the Wences laboratory. To help these companies get a good start, Wences provides dedicated coaching from its extensive network. Also, facilities to match venture capital and business ideas are in place. In addition, a dedicated water technology research infrastructure is available for the entrepreneurs. As part of this, unique demonstration sites are available for scale-up research and for demonstration of new technologies to customers. For example, Blue Energy. In this setting, we have the availability of four kinds of water. We have got very salt water, brine. We have got sea water from the Wadden Sea. We have got kennel water. And we have got very pure water, condensed. And these four types of water, they are perfect to test blue energy in practice. We do research to improve our system so that we can deliver more power. And that's the ultimate goal. Scale up the process and make a power plant that is delivering energy to households and companies. It is important for Wences because our main goal is to develop new technologies. And with these kind of demo sites, we can facilitate the introductions of the new technology to the market. In fact, we want to accelerate that introduction. Wences is located directly adjacent to the church. This way, the literal and figurative distance between the entrepreneurs and the researchers is kept to a minimum. The water campus is set up in a way that leads to the frequent planned and unplanned meeting of minds. This stimulates the exchange of ideas and know-how. Synergy is the result. Wences is developing into the European Centre of Excellence in the field of water treatment technology. Besides its activities in the fields of research and business stimulation, Wences is also active in education and talent development programmes. Much of the developed know-how and new insights are housed in the minds of the students and researchers active in the programme. They are a crucial link in the transfer of knowledge from the laboratory to companies. The multidisciplinary background of the Wences researchers further adds to their attractiveness as professionals for the water sector. Wences not only focuses on PhD students, but also on master and bachelor students. We have our own master education, our two-year master education, which is also focused especially on European talents. And to create in this way some kind of talent mobility in Europe to get all the talents on one spot. And we also have master thesis students, so they come from other universities and only do the research project here. And this is very popular because of our very good equipment and the freedom the students get to do their own project here. And so we have about hundreds of them here. Water technology is introduced to youngsters in dedicated programmes at primary and secondary schools. They learn about the importance of sustainable water solutions for drinking water, energy and food. Well, I think it's really important for young children to be inspired with water and water technology. So that they know more about it and maybe when they're older that they can also do something in the water technology business. And we think that with experiments and a lot of fun things that they can remember that when they're older and have to make a choice. The shortage of safe fresh water is a growing global problem. Finding new water sources, cleaning waste water, preparing drinking water and the reuse of water will therefore always be important themes in the WETSIS research programme. Sustainability remains the starting point in the innovative cooperation in WETSIS. In the future you see some problems that come back all the time. One of them is the difficulty to remove the very tiny concentrations of medicines and pesticides and personal care products. And that is important for water reuse. Another thing is to remove salt from water. As well for seawater desalination, for bringing fresh water into areas which have no water of their own. Or the reuse of water in which salt accumulates. And another thing is recovery from valuable things from water. And at this moment phosphate is very important. Another thing of course is energy. There's a lot of energy in water. How can you get the energy out of the water again and use it as renewable energy? What the world needs is cheap and sustainable solutions to basically convert the available water that we have into safe usable water. So for instance for desalination or to treat waste water or to produce safe drinking water. So there is a very big societal threat that we want to face with this program. So much value, that makes the use of water. Ok, questa è stata una breve introduzione del film, quindi ora avete già visto un po' di più, alcuni di questi elementi saranno tornati nella presentazione. Ho troppo alcuni slide, quindi nella presentazione sempre skip alcuni, ma al principio la maggior parte sono molto utente. Questa... Mi sentite? Ah, devo parlare... Come dicevo, questa è una breve presentazione che avete appena visto nel video, quindi alcuni degli elementi che avete ascoltato e avete visto torneranno nella presentazione PowerPoint che sto per farvi. Ho tantissime slide, quindi ne salterò qualcuna e possiamo iniziare. Buongiorno. 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 Grazie per la visione. Grazie. 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 le zone che si trovano a est del paese, c'è meno disponibilità, in questo senso più scarsità di acqua potabile con conseguenze anche sulla qualità. La mappa che vi sto mostrando testimonia le regioni più maggiormente colpite adesso e in futuro dal problema della scarsità idrica. In 20 anni queste regioni dovranno proteggiare una serie di sfide e soprattutto perché notate che le regioni che appunto sono quelle colorate di scuro, di osso scuro, sono quelle dove vive la maggior parte della popolazione. Quindi se per proteggiare questo problema dobbiamo intraprendere una serie di misure fondamentali, dobbiamo sviluppare una serie di tecnologie, certamente non possiamo proteggiare questo problema con le tecnologie esistenti o con adattamenti delle tecnologie esistenti. On global level you can see that most water is being used in agriculture, that's the bar on the right hand side and on the left you can see that most water actually is used for energy production. So you have a different demand side of water. But important to know is that then the agricultural side, it will be one of the challenges, how to grow stable food crops. But this is the bigger challenge. If you want to solve one angle, for instance you want to produce more food, that's possible but generally you need more water and energy to do so. If you want to produce more energy you can do that either by using biomass which is using some of the food or and you usually are less efficient with water. Because if you want to produce more oil, you usually use water in the ground to increase the pressure. And also if you want to make chemical products you need water. To produce water you need energy and thereby all of these, if you erase the aspect of one, you lose one of the other too. So the best way is to develop solutions that do not have this trade-off. So that if you increase one, you don't lose the other. And that's of course a challenge and we try to solve that. Thank you. Come potevate vedere dalla slide precedente, diciamo che a livello mondiale la maggiore domanda di acqua è da una parte nel settore agricolo, ovvero la colonna sulla destra, mentre sulla colonna sulla sinistra la maggiore domanda di acqua deriva nel settore energetico. Diciamo che ci sono tutta una serie di sfide di elevata importanza da affrontare, in particolare in ambito agricolo la sfida maggiore è quella di aumentare le risorse idriche disponibili di elevata qualità per poter produrre anche delle colture che siano qualitativamente elevate. Nel grafico che potete visualizzare vi rendete conto qual è l'entità della sfida più importante che ci troviamo ad affrontare. Ovviamente noi vogliamo produrre più energia, ma per farlo abbiamo bisogno di acqua, per produrre più cibo e per farlo abbiamo bisogno di acqua. Quindi sostanzialmente quello che succede è che aumentare la produzione di un elemento fa oggettivamente diminuire poi l'altro. Quindi aumentando l'energia diminuisce l'acqua, aumentando il cibo diminuisce l'acqua. Quindi bisogna fare in modo di sviluppare delle tecnologie talmente moderne e talmente innovative che possano evitare questa proporzionalità inversa per cui aumentare l'energia diminuisce l'altro. Quindi fare in modo di creare l'energia. Un altro aspetto molto interessante sull'energia tecnologica è che non è solo buono per la società se risolvi problemi. Per esempio, che è stato molto più importante. Il primo anno c'è 500 milioni di euro che spengono sull'energia. Il mercato miglior aiutare dell'energia. Il due principi mercati sono il USA e la China. Il mercato migliorno è Europa. So within Europe we have the best technology and up until now we are able to develop new technologies, stay ahead of the others and sell a lot of technologies to both China and the US. Of course you need to be continuously innovating and improving to be ahead of the market and of course in certain areas US companies are ahead. So you have certain niche players that are able to sell their products on the global market and vice versa. So we have about 800 miliardi di euro per le risorse idriche e in particolare questa maggiore domanda proviene da paesi come gli Stati Uniti e la Cina. Eppure la maggior parte delle migliori tecnologie sono allocate in Europa. Sino ad ora noi siamo stati in grado di vendere, almeno alcune parti d'Europa, di vendere le nostre tecnologie per superire la domanda degli Stati Uniti e Cina. Certamente dobbiamo continuare a essere innovativi, dobbiamo continuare a migliorare soprattutto se vogliamo essere al primo posto nel mercato. As can be seen in this slide, Europe is still a little bit ahead of the US, but our development is going strong. What you need to make new water technology is a combination of science fields, because just one science field is not enough to make breakthrough research. So viene sottolineata qui la necessità di combinare diversi livelli scientifici per poter progredire a livello tecnologico. You have to scale up when you have found something, your technology, to show it works in practice. C'è necessità di migliorare e di perfezionare la tecnologia una volta trovata per vedere i risultati che può portare? C'è necessità di migliorare. Let's focus on the region, the region we live, well I don't live there, I live in Brussels, but the region where the center is located, in the north of the Netherlands, it's called Frisland, maybe Frisia is the Italian word. Frisia. And it's known for the black and white cows, so our region is very known for making milk, but we also have an interest in developing renewable energy, especially wind. And water technology is the field of choice. We had already some very innovative SMEs within the region, and then within the year 2003, within our province they set a course to develop an institute which would have high impact multidisciplinary science, a more business based on new knowledge, create innovative context in the region, and develop a higher attractiveness for international talent. You also have to know that within the region our province does not have a university. We do compare ourselves a bit with the city of Eindhoven, maybe you know that city that's known for Philips and for the University of Eindhoven, and they call themselves Brainboard, which is like a cluster and hub and developing new technologies. Well we are sort of developing the same, but we do it without the University of Eindhoven and without Philips, so we do it with a lot of local SMEs, and we import the knowledge. I will show that later. The region where the center is located in the Basis Basis, in the region known in Italy, known for the production of latte for the famous mucca, white and black. I live personally in Bruxelles in Bruxelles, but the center is located in the region in the region of the Basis Basis. The center is not only known for the production of latte, but also for the interest shown in front of energy renewable energy, in particular energy ionic. In 2003, we have placed the main objectives for the development of this institution. First of all, the institution had a multidisciplinary character, which was to involve more rami scientific. to develop a knowledge that was always related to the companies and economic interests in the role of the market, to create an innovative context and to create a role of attrazione for the talent at the international level. We have to emphasize that in the region that there is no university. We are not an university. We import the knowledge from the university. There is a region where the region is located. The region is located in the region which you probably know because you are in the Philips and because you have the university of the Endowen which is a center of excellence in terms of the development of renewable energy and the attention of the energy energy. In reality, we do the same thing without the university and without the Philips. We developed a local ecosystem within the 10 years. It's called by now, the new title is the Water Campus Lealwarden and within the Water Campus you find three aspects. One is the center of excellence for water technology and that's called WETSIS. So that's the level of master students and PhDs. Then you have for the schools who are more vocational education and training or they call themselves also University of Applied Sciences but it says BSE level. That's the center of expertise for the technology. They also have their own laboratory. And then last we have a business pillar. It's called the Water Alliance in which local SMEs are united and through them they go to the world market. WETSIS itself as an institute is a non-profit foundation. So we don't make any profit and we don't own any patents. But some of the businesses in our region go through the Water Alliance to world fairs, markets, exports and try to attract new funds. Thanks. Parliamo di ecosistema locale di innovazione che è un altro dei nostri obiettivi in 10 anni. Tra dieci anni vogliamo creare un' nuova iniziativa o comunque dare un nuovo volto al campus chiamandolo appunto Water Campus Leovand che si articola in tre aspetti fondamentali. Il primo aspetto è quello scientifico che coinvolge l'istituzione universitaria, in particolare gli studenti di specialistica o i dottorati di ricerca. Il secondo aspetto è legato allo sviluppo dell'istruzione, quindi a livello prettamente scolastico di scuola superiore e studenti di laurea triennale, che è un po' la parte operativa o sarà la parte operativa del nostro centro perché qui c'è il know-how necessario e ci sono anche le strutture di laboratori. Il terzo livello è il livello prettamente aziendale, economico, quello che cioè coinvolge le numerose piccole e medie imprese che già sono presenti sul territorio e collaborano con noi. Diciamo che queste imprese aiutano poi, supportano poi lo sviluppo sul mercato delle tecnologie. Vorrei precisare che Versus non è un'organizzazione a scopo di lucro, è un'organizzazione non profit, quindi noi non effettivamente guadagniamo oggettivamente dall'attività di ricerca che facciamo, né tantomeno siamo a depositare i livelletti. Quello che però viene fatto, viene fatto attraverso proprio il terzo aspetto dell'Alliance, quello delle imprese che possono, tramite sinergie tra di loro, portare il know-how e le tecnologie anche esportate sul mercato e in altri mercati sostenibili. Alla prossima è un'organizzazione a scopo di l'Università dell'Università 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 dell'Università. Ci sono 45 diversi università, 45 diversi università, 45 diversi università. Ci sono un'organizzazione a scopo di sviluppo di sviluppo di sviluppo. Ci sono circa 100 compagni che hanno signato a scopo di lavorare con noi. E come un'organizzazione a scopo di sviluppo di sviluppo di sviluppo di sviluppo di sviluppo di sviluppo di sviluppo. Andritorno, tra le dei risultati di sviluppo di sviluppo di sviluppo di sviluppo di sviluppo nei strumenti di sviluppo di sviluppo di sviluppo. Excop Power Company, Vitens, makes water. Shell is known for making, of course, benzine, gasoline. And Unilever makes food. These are four Dutch companies that had the right size, so they can easily invest money. That's usually the easiest way to start. The year after, more companies joined. From these nine companies that joined, many are SMEs. So they joined a year later because they saw the possibility to work with problem owners and launching customers. And if you see then, after that, many more companies joined. And this year, it's not been updated completely because in 2013, more companies have joined. But this is an older slide from the beginning of the year. But the newest entrants are, for instance, Anglian Water from the UK. That's a public water company on the east coast of England. They joined in 2012. Chimera is a large chemical company from Finland. They joined in 2013. And Skion actually is the execution office of the money of the family, of BMW family. And they want to invest money in new innovative companies and technologies. So they're based on our water campus to see if there's new companies they want to invest in. And they promised us that they will invest in two to five new companies in the field of water each year. They don't need to be in our facility, but they are scouting for the water technology field because they think it's interesting. So these companies, we've connected. Oh yeah, this is a slide, for instance, for 2012, the new companies. Later, I will show a slide with the universities. The different companies, what's important, they have all very different backgrounds. Because to introduce water technology, you need various aspects. You need system integrators who can do a very big project. Then you need niche players that offer very specific solutions for, let's say, more micro-problems. And these niche players, many of them, are from the Netherlands. The integrators, we don't have so many in the Netherlands. These are more found in countries like Spain and France, with names such as Veolia, Suez, and Abangoa. Those are the bigger companies that can do big projects. Then it's a combination of the civil engineering side and process technology. Because, of course, you need to build a structure. And then within the structure, you need to do very specific targets and objectives. And this sector is also known for having both public and private entities. Within our country, all the water companies are public companies. And then all our actors that come from the industrial side are, of course, private actors. And within Europe, it varies from country to country if, for instance, water sector is more public or private owned. And this gives different characteristics to the market. Just a slide to show what sort of companies are within WETSUS. We have 40% very large companies. The positive thing about it is that they are actually the problem owners. So they want to develop something because something is wrong within their system. They want to improve it. And then the companies helping that are medium companies and small who have new ideas. And then we also have the public companies from the water sector. These are the universities with whom we connect. And this is a picture to show where we connect to. I like to make something like a Ryanair picture. Or an Italia picture. This one goes also to Canada, US, and Japan. Because from Japan, we have now three companies that joined. From the US, also three. And Canada, for instance, is Trojan UV. And they're connected to our center because they think that developing new water technology is best done in this multidisciplinary fashion. This is a presentation of the institutions and the companies with whom we work. In 10 years, because the story is part of 2003, we have created collegamentos and stipulated contracts with 18 universities proven from 9 countries of the European Union. In particular, we have now complessivamente 45 cattedre, 45 discipline diverse, facoltà diverse che intervengono a collaborare con noi. Poi c'è l'aspetto prevalentemente aziendale con 93 aziende e al momento siamo a 26. questa è una slide dell'inizio dell'anno, sono 26 gruppi di ricerca che sono appunto organizzati per team. Ecco, queste sono le aziende che dal 2003 al 2013 sono intratte e hanno cominciato a collaborare con noi. Siamo partiti con quattro aziende. Quattro aziende, la prima produceva energia elettrica e sulla Aliander. Vitens invece era un produttore di acqua, Shell produce benzina e per l'ultima si occupa di alimentazione, di produzione di cibo. Si comincia sempre così con delle aziende importanti che possono investire delle cifre importanti. come potete vedere nel corso degli anni ovviamente ci sono aggiunte numerosissime aziende, alcune anche molto importanti come proprio le ultime, quelle del 2013. In realtà proprio la parte del 2013 dovrebbe essere aggiornata perché ce ne sono altre che si sono aggiunte. sia l'Ambrian Water è una che volevo citare e che ritengo molto importante. Chi dirà che Schion che si occupa anche dello scouting, del reclutamento poi di altre aziende che potrebbero essere interessate a una nostra collaborazione. Queste sono alcune delle aziende di cui vi parlavo precedentemente e prima di parlare delle università vi posso dire che ci sono diversi role player, ci sono diversi attori che collaborano proprio a livello aziendale nel settore idrico. Ci sono i cosiddetti integratori che si trovano sostanzialmente non tanto nei Paesi Bassi quanto più in Spagna e Francia che si occupano della soluzione dei problemi maggiori. Ci sono poi i player di nicchia, gli attori di nicchia che invece appunto si trovano proprio nei Paesi Bassi, piccole e medie imprese che guardano anche al microcosmo, quindi ai problemi a livello più ridotto, diciamo alla prospettiva più ridotta. Ovviamente c'è una sinergia di ingegneria civile, di tecnologia di processo e di settore pubblico e settore privato. In questo caso devo sottolineare che a seconda del Paese la gestione idrica è diversa, nel senso ci sono alcuni Paesi in cui le risorse idriche sono in mano in settore pubblico, in imprese pubbliche, in altri in mano al settore privato. Diciamo che il mercato si differenzia in questo senso. Questo è uno schema, è un grafico dell'ampiezza delle imprese che vengono rappresentate anche in versus che collaborano con noi. Potete notare che quel 40%, quindi le imprese più grandi che sono maggiormente rappresentate sono poi quelle che risolvono i problemi maggiori. Quindi è abbastanza positivo per noi perché riconoscono i problemi a quello visto del macro livello e poi appunto cercano di risolvere di offrire le prospettive di miglioramento. E infine queste sono le varie università con cui collaboriamo e volevo fare, ecco questa è una rappresentazione, volevo fare una cartina tipo quella della Ryanair o dell'Air Italia, volevo creare come delle rotte aeree. Diciamo che queste sono le connessioni che Versus ha in tutta Europa a cui poi si aggiungono i collegamenti con Canada, Stati Uniti e Giappone che rivestono particolare importanza. Negli Stati Uniti e in Giappone abbiamo per ciascuno tre imprese che ci rappresentano. Sì, per quanto riguarda il nostro lavoro, non voglio fare un'immagine di informazione. Ma ci oppure un'immagine per un'immagine di informazione per fare un'immagine di informazione può prendere tempo. Si vedi ilブale, si vedi un'immagine di problematrice, non voglio avere un rischio di rischio, quindi ci chiedono le domande e allora può prendere un periodo before you have the right stamps to prevent this we have requested on several sites already the patents for any sort of research apart from explosives to do on site so you can do any kind of municipal wastewater treatment system test or test for drinking water test for desalination of water sensor systems and hospital wastewater and any company can go there to to see if their products work and this saves a lot of time then this is a picture you already saw in the film before that we have a business incubator in a church I can assure you it's not an official church anymore and we were granted the rights by the church to use the building for a different means and on the other side you see a building which is a computer design at the moment and this is the new water campus building and within our province this construction takes place at the moment so September next year it should be finished and then our Institute would be placed within this structure as well as our education diciamo che la verifica e test in loco per appunto dimostrare il funzionamento di queste tecnologie può essere complicata soprattutto dal punto di vista burocratico bisogna andare dalle varie autorità comunali e provinciali ovviamente valutare tutti i rischi ci fanno un sacco di domande quindi diciamo che ci può essere molto tempo ci potrebbe volere molto tempo per poi avere timbre le autorizzazioni giuste per questo motivo noi abbiamo fatto una richiesta di prevento per ogni tipo di test di ricerca ad eccezione per ogni tipo di materiale ad eccezione degli esplosivi per cui l'azienda può un istituto universitario può ricarsi in loco e può vedere se la tecnologia sviluppata funziona dalla desalienizzazione fino all'acqua potabile fino alle acque di scarico tutte queste tecniche di decorazione possono poi essere verificate in loco questa immagine queste immagini le avete già viste nel video precedente noi abbiamo una struttura un'infrastruttura che si occupa appunto della gestione economica del centro di ricerca a livello particolare aziendale e si trova in una chiesa sconsacrata io vi assicuro che è sconsacrata e che abbiamo avuto tutte le autorizzazioni per poterla utilizzare per propositi diversi diciamo che qui si svolge si svolgono delle attività molto importanti e l'altra immagine che invece vedete è l'immagine del nuovo Water Campus come sarà probabilmente entro settembre di quest'anno per noi ovviamente una rappresentazione fatta al computer e qui si sposterà con tutto il know-how, tutta la tecnologia e tutta la parte tecnica in questa struttura So now let me show you a little bit about the research itself Within our institute, as I mentioned before, we combine the knowledge of universities and companies The finance behind it is that our public government, like the national government and regional government together, they pay 50% of the money from our research program, 25% is paid in kind by the universities that contribute and 25% is paid in cash by companies. So in the end we spend company money to do research at universities. This is again a summary to show which sort of disciplines we combine to make new water technology and you can see that environmental science, chemistry, material science are important aspects and we combine it with physics, bioengineering. Just to show you an example of one of the research themes, this is about blue energy. Blue energy was shown a little bit in a movie, it's where you combine fresh water and salt water and with the difference in salinity you create renewable energy. To get a figure about how much, if you use the sea water of the North Sea, which is less salty than the sea here, so here it's even more productive, the energy capacity is equal to a hydro dam of 240 meters height. So for a country without mountains, we are then able to create renewable energy with this technology. The theme itself is composed by eight different companies who are themselves not competing against each other. So they work together within this theme and thereby they share all their intellectual property. They are very open towards each other, that's the only way it can work. And they sign a contract for at least four years because that's the length of time that a PhD needs to stay as a PhD in the Netherlands. The last two are two universities that work together on this project. And later I have a slide to show how far this project is because at the moment we're building a new pilot site for this project to show it works. Which is a 50 kilowatt pilot site and there's an investment of about 7-8 million euros involved. And it will be operational at the end of this year. Then to show, we are also doing real research and this is a graph that shows what sort of articles we publish and also what the relative citation index is. We did an audit which is equal to a normal university in the Netherlands and we call ourselves Centre of Excellence because that's what we're striving for. And you can see that the score we had within 2011, as relevance we already had excellent, then others we are now at the edge of very good to excellent and quality at very good. So we try to improve all these that we get four scores of excellent in the near future. And this is a slide which shows how many patents we've been developing until 2012. So we take the bureaucracy to ourselves, we ask the companies if they want a new patent, then we request it for them. And we're not interested just in getting patents but also in transferring them so that companies actually use them. Because new products need to be made. And actually quite a few times it also happens that the companies active in the research fields find out something which is not the complete scope. Sometimes then they make their own spin-off like a new company and sometimes the patent will be used by other companies within the research centre. Volevo mostrarvi l'aspetto prevalentemente finanziario della struttura di Lexus come funziona. Voi sapete che la conoscenza viene trasferita attraverso una sinergia di università e di imprese che collaborano con noi. Dal punto di vista del finanziamento, c'è un finanziamento pubblico che è quello del governo che è il 50%, mentre il restante il 50% viene suddiviso tra le università e le imprese. Vi volevo poi mostrare ancora una volta le varie discipline, quindi il carattere multidisciplinare che ha il nostro istituto di ricerca e in particolare questa è la struttura di uno dei nostri team, dei nostri cluster, di uno dei nostri team di ricerca che lavora in particolare al progetto di Blue Energy che è quello che avete sentito prima nel video che è una combinazione di acqua salata e acqua dolce per poter ottenere attraverso un determinato livello di salientazione attraverso una serie di procedure chimiche per raggiungere energie, per ottenere energie rinnovabili. Noi combiniamo l'acqua salata del mare del nord, quindi se lo facessimo qui nella zona del Mediterraneo probabilmente la tecnologia sarebbe ancora più efficace. Le imprese che sono elencate qui sono otto imprese che non sono in concorrenza tra di loro ma che collaborano per la realizzazione e l'implementazione di questo progetto. Le altre due sono invece due università che lavorano nel momento 6 progetti e hanno un contratto minimo, un contratto quadrinale. Questi sono gli anni in cui i progetti si svolgono insieme ai vari livelli, quindi dottorato, post-dottorato, eccetera. Questo è un grafico prettamente finanziario, in questo grafico vi volevo far notare il numero di articoli, quindi le pubblicazioni che noi facciamo annualmente per quanto riguarda i centri di ricerca. Questi sono invece gli indici di valutazione, come cioè i comitati scientifici valutano VETSOS nel corso degli anni. Ovviamente il nostro obiettivo è quello di raggiungere il punteggio massimo in tutti quanti i livelli, per tutti quanti gli indicatori, ed è questo a cui lavoriamo costantemente. Questo grafico mostra invece i brevetti che noi sviluppiamo, diciamo che noi trasmettiamo, noi diciamo alle imprese, la burocrazia è a carico nostro, cioè noi ci occupiamo dell'aspetto burocratico, vi cediamo, vi trasferiamo il brevetto. L'impresa acquista il brevetto, può rendersi conto che il brevetto rientra nel suo margine d'azione, nel suo campo d'azione e quindi sviluppare poi il proprio spin-off, il proprio brevetto distaccato oppure può rivenderlo ad altre aziende nel momento in cui si rende conto che non copre completamente le necessità. Grazie a tutti. So one of the research areas, we all know that on a global level, there will be not enough phosphates. So we need to reuse phosphates. Actually on the global level, there is one large predator, which is us, the humans, and we are the top of the food chain. So all the food on this planet, in the end, goes through our bodies, and what we do now with the current system, is we, okay, it's wastewater as a topic. You go to the toilet, and then you go to the toilet, and then you say goodbye to the food from the day before, and it goes through a depuratore into the ocean in the end. So we are disconnected from agriculture, and thereby we need a lot of chemical fertilizers to regrow our own food. Which is something that humans were not able to do for 200 years ago, it was very important to have, be part of the food chain. For 200 years, humanity has been detached, and thereby we've been using a lot of chemical fertilizers, taken from rocks, like in Morocco. But all these amounts are, well, if you can see the graph, there's not so much of that anymore. So we need to reintroduce humans in our own food chain, and link what we eat, and what we have eaten, back to the fields. We already have a method to do that, that's with the chemical, adding chemicals so that the phosphates will become something that's called struvite. But that's not really acceptable for the farmers, because it's a more difficult method. So we try to make a new way of getting the phosphates out of water, by making these granules. And I don't know if you all did chemistry, but let's say that we've been able, so far, to make a biological product that contains a high amount of organic matter and phosphates, which could be used by farmers more easily. Let's see. I will continue and then give you the work. So this is to show that new water technology companies have been started in the Netherlands. Of course, you see that there's, after 2009, the crisis also was active in our country, so there's a gap, or there's a reduction there. So all the red ones are not related to our center. All the other ones are directly or semi-directly related to our activities. A way of, a very practical way of doing research and making new products is this machine. It's a machine to wash hands. And it uses almost no water, and it uses no soap. And instead of using a lot of water, soap, and then paper to dry your hands, end time, this machine is the objective to wash your hands and dry your hands within three seconds. And then, you don't need any paper, you don't need any soap, and you use almost no water. Of course, within your own home, you will not use this, but within any gas station, restaurant, university, it might be very useful, because it saves a lot of time, energy, and it's more hygienic. This is a waterless urino, I don't know, I don't know by heart if they exist in Italy, they might. They are very common on the German Autobahn, if you're on holidays and you go to the men's room, you'll find these, because there they already use the urinoir without water. It's a very easy way also to collect urine at the source, and we've done a lot of research. on reusing the components within urine. We have a method, the slide is not completely the same as it was, but there's bacteria that can eat the components within urine, and in that way create energy. This is called the microbial fuel cell, so the bacteria eat what's in the urine, you can also put in coffee, beer, or other stuff, but we daily produce a lot of urine, so it's good to work on that, and the bacteria give us their electrons, so it's actually producing energy, and at the same time, you can take out valuable components. What's very beneficial is that the conventional method of treating urine in a normal wastewater treatment plant costs a lot of energy to take nitrates out of the water. If you compare it with this technology, it actually produces some energy, but you also prevent the production, or the consumption of the other energy. This is a lab version, you see a fuel cell in the middle with all membranes, and it's situated in a container next to our water treatment organization. So there's 20 men donating each day, about 20 liters in total, and with that we can create energy for an electrical car to drive 50 kilometers each week, and save a lot of energy, and produce at the same time nitrates and phosphates. We also now won a deal that we can introduce it into the Ministry of Foreign Affairs, and the Ministry of Transport and Environment, which is in The Hague, so we can apply it in a building of 4,400 people, which is like semi-commercial scale. And after that we want to rebuild buildings with this technology, and hopefully also the European Parliament. So it looks like that's another way to build a large amount of energy in its capacity, and I have no idea of it, just on the other side What do you mean? No, no, just before? Yes, actually, slowly, yeah, yeah. Yeah, 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 yeah. No, I look forward to that. This one, yeah, about phosphates. Okay. Come potete vedere da questo grafico la questione dei fosfati ci sta particolarmente a cuore perché c'è una riduzione progressiva dei fosfati dovuta alla situazione, diciamo al grande predatore che è all'interno della catena alimentare o che almeno dovrebbe esserci che è l'uomo. Noi siamo più grandi predatori e dovremmo effettivamente ricordarci che siamo parte della catena alimentare, cosa che invece non facciamo perché non ci rendiamo conto effettivamente, anzi da 200 anni abbiamo cominciato a utilizzare tantissimi fertilizzanti chimici per poter irrigare, per poter riprodurre gli alimenti che poi noi consumiamo quando molto banalmente andiamo alla toaletta e despelliamo tutto quello che abbiamo mangiato durante il giorno. Non lo facciamo quindi naturalmente come invece succede agli altri elementi della catena alimentare. utilizzando questi fertilizzanti chimici noi ci distacchiamo da quello che è il ciclo naturale biologico alimentare e dobbiamo per questo motivo trovare il modo di rientrare in questa catena alimentare e quindi di collegare quello che produciamo poi con quello che ingeriamo con quello che poi produciamo. Abbiamo già un metodo per riprodurre i fosfati che noi consumiamo in enorme quantità ed è un metodo che immette delle sostanze chimiche. Il problema è che è un metodo un po' complicato soprattutto in ambito agricolo da utilizzare e da impiegare per questo motivo, stiamo cercando un metodo che sia un po' più semplice e un po' più accessibile per gli agricoltori per ripristinare il normale equilibrio e quindi riportare la quantità di fosfati. Qui notate appunto la tecnica che stiamo utilizzando, non so se avete esperienza a livello chimico però in poche parole cerchiamo di ripristinare come vedete nei granuli del grafico i fosfati attraverso la tecnica. Quello che volevo mostrarvi in questo grafico, al di là appunto dell'aspetto di uno dei temi che è appunto quello dei fosfati che ho appena trattato, diciamo che le tecnologie idriche che si sono sviluppate sono state numerose e notate che il punto più alto come l'abbiamo avuto nel 2009 grazie appunto alle sinergie con Versus. Dopo c'è stato un calo diciamo abbastanza fisiologico e questo è più o meno come si sta procedendo. La parte rossa non riguarda diciamo le tecnologie sviluppate da Versus, le altre invece quelle usure e quelle verde sono appunto legate a Versus. Parlavamo di tecnologie, diciamo di invenzioni, di nuovi prodotti, di nuovi prodotti innovativi, questo è uno di quelli e praticamente permette di lavarsi le mani senza utilizzare né acqua né sapone né carta per asciugarsi in soli tre secondi permettendo una riduzione appunto a livello energetico di acqua di sprechi considerevole. Chiaro, probabilmente non lo mettereste mai nelle vostre case ma potrebbe essere utile per esempio nell'autogrill o nelle università in tutti quei luoghi pubblici dove c'è uno spreco maggiore di acqua e di sapone, di carta. Questo è un urinatoio, questo che vedete qui è un'altra invenzione innovativa che noi abbiamo sviluppato e che stiamo sviluppando, non so se sia ancora presente in Italia, non credo, l'ho trovato, so che è molto presente sulle autostrade tedesche in Germania. Diciamo che questo permette sostanzialmente di riutilizzare l'urina o i componenti dell'urina per produrre energia. E infatti il metodo che utilizza e che noi abbiamo sviluppato nella Vetsus è proprio quello di immettere dei batteri all'interno dell'urina che uccidono, che mangiano sostanzialmente, che ingeriscono le componenti dell'urina per trasformarle in energia. Questo metodo potrebbe essere utilizzato anche per altre sostanze, il caffè per esempio. È chiaro che la quantità di urina prodotta giornalmente elevatissima, quindi è chiaro che proprio a livello quantitativo, per la legge dei grandi numeri, ci riesce più facile produrre energia dall'urina. Questi batteri generano elettroni, quindi questo è l'aspetto positivo, l'aspetto di produzione di energia. Qui notate sostanzialmente che questo metodo è un metodo molto importante, soprattutto a livello di produzione di energia, perché permette l'incremento di fosfati e di nitrati in misura maggiore rispetto ai metodi tradizionali. Quindi la produzione di energia viene in maniera più veloce e più efficiente rispetto alla metodologia tradizionale. E questo è un laboratorio di produzione seguendo appunto questo metodo. Si trova all'inter container fuori dal nostro istituto di ricerca dove ci sono dei volontari che tutti i giorni producono un quantitativo pari a 20 litri di urina che noi opportunamente prendiamo e lavoriamo per applicare questa tecnologia innovativa e quindi provare a trasformarla in energia. Perciò che ci sono ancora un'interazione di un'interazione di energia. Perciò che ci sono ancora un'interazione di energia. Abbiamo un luogo che è costato da un luogo di dique di terra. Quindi, sull'uncione hai il luogo e l'altro hai il luogo. E' un'interazione molto chiaro tra il luogo e il luogo. e questo è ora che abbiamo creato questa planta, che è opento in novembre, che sarà il più grande demo site in il mondo, per mostrare che l'Energia funziona. E poi spero di fare 200 megawatts a questo site e 1,000 megawatts a Rotterdam, dove il grande rivero in l'Nederlande, il Rhino, che flows all'inizio. I'm going to skip a few slides, because of the time, and there's a duplication. To go to this slide, one thing we do is develop new technologies and create new businesses. And when we are in Brussels, usually we talk about the problem of financing. But financing is only one aspect of the issue. The other aspect, as soon as you have financing, you need to do it. And if you want to do it, you need people. At the moment, we have a lot of people around our centre, and companies associated to Wetses have their own people. But on the one hand, they need more people, because they're growing. And as is the same in the rest of Europe, we also, of course, have our own aging society. So some companies have very many people working there that are at the age above, let's say, 40 or above 50 even. So some of them, of course, will be retiring anywhere between 5 or 10 years from now. So they need to be replaced with new staff. But especially the growing part, because of all these technological developments, we need a lot of new people. Partly we attract them with our international programmes. But also we try to stimulate people in the region to be more active in this study. So what we did is we sent water professors to schools. And water professors are actually not professors, like you know them here. They're teachers, but it's more funny to call them water professors when they go to see children. They wear a white lab coat, and they enter any normal classroom. And at the age of 10, they start playing with water, so that children get more acquainted with the topic. Usually teachers in the Netherlands at that age group are usually, I don't want to offend anyone, but they're usually women, and usually not women that studied chemistry, but usually women that like, for instance, arts, which is very good. But then they will not talk so, let's say, yeah, when they have free time, they will talk more about, for instance, literature or any other topic instead of how cool science is. So that's why we have the water professors to attend these schools as well, to show that apart from becoming maybe a doctor or a surgeon or a lawyer or a banker, you can also actually become a researcher or a business developer or do something really cool with water. So that's what we try to do at the young age groups, and it works so far pretty well. 70% of the schools in our region are being visited, and the students really like it, and the teachers are also really happy that we attend the schools. Then later, also at school age still, about 15, we go to the classes of chemistry, biology, geography, mathematics and physics, and then offer components of those lessons. So the students will still do the same calculations, but now instead of any, well, assignments just in the textbook, they get a really cool assignment with water in the classroom and with some demo, so they can actually calculate what's going on. This attracts again more attention, and then we hope that they will enroll in any of our programs. And within a region, we didn't have the real universities, but we do have the universities of applied science, science, which is sort of bachelor level, and there now we have more and more students coming in. Apart from that, we have developed a master program, which is a joint degree offered by three universities, Wageningen, Groningen, and Enschede. They have all different disciplines, and together they formed this master degree, for which they are, let's say, responsible towards the Ministry of Education, that it is according to the Dutch standards of being a master degree, and also our own researchers give lessons there. And then, as mentioned, we also have our PhD program, and in the PhD program at the moment, we have 70 PhDs to develop new water technologies. This is a graph that shows a bit the enrollment into the studies related to water, and as you can see, especially the red bar, these are studies with which you can later access our program. So there's a pretty high increase in interest and participation. And the blue ones are people that actually did a major, so they are able to then later continue working in the field. And as I mentioned before, next to our facility, we also have a special laboratory in which students that do their final phase of the bachelor can actually do practical work. And then Ellen's final phase is one year, and what's special about this program is at the same time they get education, and they can work for companies, which is open for Dutch students and any foreign students, which means that during the year you not only get new education, you do not only do your own project, but you also partly work for the companies, and by doing so you will be both paid from the national government with a scholarship, and you will be paid by the company for the work you do for the company. So you earn sort of money twice with which you can easily spend a year in the Netherlands. And at the end you have both the experience for working for a company and doing education. I'm just going to go through if there's any more slides to add. This is just to show where PhDs come from. Well, as you can see, they're not all typical Dutch. They are from any country in the world, but mostly they're from Europe, and a few from Brazil, Mexico, and China. This graph shows the origin, so the amount of the world continues to be the same. The Netherlands is decreasing, but it's because there actually are more and more people enrolling, and then you see that the part of Europe is increasing. And this is also in line with the thoughts in our province. Not only do we want to have people from Europe come over to study and then to work for companies associated, but more importantly, we also want to have them trained and returned with the philosophy how to work with companies and return with this knowledge to the regions where they are from, to develop this sort of combination between universities and companies, and also to know which sort of new technologies are out there and how to apply them within their region. Let's see if there's one more thing to add. Not yet. Okay. Okay. This one. Volevo mostrarvi un progetto sempre portato avanti nell'ambito del team Blue Energy. Vedete da una parte in questa immagine abbiamo il mare, dall'altra il lago, quindi notiamo come è possibile trarre energia, progetto di combinazione di acqua salata e di acqua dolce da due risorse contemporaneamente. Questa è la struttura che vogliamo creare, esatto, il centro che vogliamo creare in futuro l'impianto che vogliamo aprire entro novembre, che sarà praticamente l'impianto più grande per la trasformazione, la combinazione di acqua salata e di acqua dolce, 50 kilowatt e la potenza nel giro di pochi mesi e nell'ambito del progetto Blue Energy al quale stiamo lavorando. Parliamo prevalentemente adesso dell'aspetto studentesco e dell'aspetto di mia ricerca. Diciamo che il nostro centro è un centro di eccellenza per lo sviluppo di tecnologie che poi possono portare alla creazione di nuova energia. A Bruxelles, nell'ambito dell'Unione Europea, ci troviamo spesso a parlare di finanza, spesso a parlare di soldi. Sicuramente l'aspetto finanziario è un aspetto fondamentale della questione. L'altro aspetto è l'aspetto prevalentemente umano, cioè delle risorse umane a disposizione. Abbiamo bisogno di sempre più persone, di tante persone, questo sia a livello di ricerca, di livello universitario, sia poi successivamente a livello cooperativo e all'interno delle aziende. Ovviamente anche nei Paesi Bassi, come nel resto d'Europa, assistiamo al progressivo invecchiamento della popolazione, quindi a un incremento di una popolazione più adulta. E all'interno delle aziende stesse c'è magari una forza lavoro con un'unità media di 40, persino 50 anni. Per cui diciamo che ci aspettiamo che poi nei successivi 5-10 anni tutta questa forza lavoro debba essere sostituita perché appunto termina la propria attività lavorativa. Per questo motivo a livello nazionale e a livello regionale abbiamo cercato di sviluppare delle iniziative di sostegno e di supporto sin dalla giovane età per incrementare poi il numero di persone che si interessino maggiormente a utenti scientifici. Abbiamo inventato, creato un personaggio che si chiama Water Professor, che è un professore dell'acqua, che in realtà non è un professore come i docenti, non è un docente universitario, ma è un maestro che arriva in classe, si reca in classe, in classi, mi riferisco adesso alla scuola elementare, prevalentemente quindi siamo intorno ai 9-10 anni, e comincia a parlare dell'acqua, a fare esperimenti con l'acqua per cercare di interessare e divertire poi i bambini presenti. Ora, questo Water Professor è stato creato perché, diciamo facendo un'indagine, gli insegnanti all'interno della scuola elementare, con questo non voglio offendere nessuno, sono prevalentemente donne e l'interesse che spesso questi insegnanti hanno, sono magari interessi più di tipo culturale, artistico, magari meno scientifico, si parla meno di quanto bella e interessante possa essere la scienza. Quindi questo Water Professor, questo maestro poi riesce a coinvolgere e ad aumentare l'interesse e l'entusiasmo nei confronti di questo tema. Ora, i risultati sono stati veramente molto positivi, sia dal punto di vista degli studenti, dei bambini che hanno degli alunni, sia dal punto di vista degli insegnanti che hanno anzi supportato con entusiasmo questa iniziativa per, diciamo, stimolare un po' anche le idee dei bambini, degli scolari e pensare che non è necessario diventare per forza avvocato, direttore di banca, ma che si può anche diventare scienziati, che si può anche lavorare in questo settore, nel settore scientifico. Quindi il 70% è da un'indagine che poi abbiamo effettuato dei partecipanti, delle scuole che noi abbiamo visitato, è il risultato più che entusiasta di queste nuove iniziative. A un livello superiore, quindi a un livello, diciamo, che corrisponde alla nostra scuola media, in Italia prima scuola superiore, abbiamo anche creato delle iniziative che potessero coinvolgere in prima persona gli allievi, i ragazzi, a fare soprattutto quelle che sono durante le ore di chimica, matematica, biologia, o i licei scientifici, quelli che sono gli istituti scientifici e tecnici. C'era un esperto che ha illustrato le tematiche collegate all'acqua e quello che con l'acqua si può fare a livello degli esperimenti e sostanzialmente ha invitato i ragazzi a fare gli stessi calcoli che magari avrebbero applicato ad altre discipline, a farli con l'acqua, quindi a farli anche mediante dimostrazioni fisiche reali. E anche in questo senso, diciamo, abbiamo ottenuto dei buoni risultati perché l'obiettivo era fare in modo che questi ragazzi potessero poi iscriversi all'università e che quindi ci fosse un incremento delle facoltà scientifiche, delle iscrizioni in facoltà scientifiche. Ora, io l'ho detto prima, noi non siamo un'università o non abbiamo una università, ma abbiamo una laurea triennale, un corso di laurea triennale che si chiama Scienze Applicate e tre università olandesi hanno creato una sinergia per un corso di laurea specialistica, quindi un corso, una laurea che poi verrà riconosciuta da tre università olandesi, supportate grazie anche ai finanziamenti del Ministero dell'Istruzione. Abbiamo sette ricercatori che sono coinvolti e il numero sta aumentando e nel grafico, nel grafico volevo mostrare, notate che gli studenti, quindi la giovane età e il discriminante in questo caso, sono aumentati notevolmente nel settore dell'ambito scientifico, laddove invece la parte blu mostra quelli che solo in un secondo momento, quindi che hanno già frequentato un corso universitario e solo in un secondo momento hanno cominciato a collaborare con il settore scientifico e con le imprese. Questo è un laboratorio dove gli studenti di laurea triennale di questo percelo possono scrivere o possono fare in loco la propria tesi di laurea. Questo sostanzialmente è un programma molto vario che coinvolge diversi livelli. Il livello prettamente di ricerca, quindi universitario, il livello dell'istruzione e il livello delle imprese perché durante la fase di preparazione della tesi questi studenti possono svolgere una specie di tirocino, anzi un vero e proprio tirocino retribuito presso le aziende partner del nostro istituto di ricerca. Contemporaneamente per il lavoro di ricerca svolto, quindi non solo il tirocino viene finanziato dall'azienda, ma per il lavoro di ricerca svolto i ragazzi ricevono un finanziamento dal governo, quindi praticamente guadagnano il doppio dei soldi. Ricevono i soldi, vengono pagati dall'azienda e pagati dall'università tramite queste borse di studio che vengono loro messi a disposizione e all'interno di questo percorso di studi poi loro avranno l'esperienza necessaria per poter proseguire all'interno di questo settore nel mondo del lavoro. Questi sono invece il numero complessivo dei dottori di ricerca che abbiamo, ah dei nuovi esatto, questi erano nuovi, quindi che si aggiungono a quelli già esistenti. Come vedete non hanno proprio tratti tutti olandesi, anzi tutti europei, provengono dalla maggior parte dall'Europa, ma ci sono anche alcuni dottori di ricerca dal Brasile, Messico e dalla Cina. Notate, questa è appunto la rappresentazione grafica della percentuale di studenti che poi provengono dall'Europa, diciamo di staff scientifico che proviene dall'Europa e oltre. È chiaro che, se notate, si è ridotta un po' la percentuale di studenti provenienti, di staff provenienti dai Paesi Bassi, ma questo ovviamente perché si è incrementata la percentuale delle altre religioni. Ah, ok. I didn't study Latin, so I don't know if it makes any sense, but... Non ho studiato latino, quindi non so se ha senso questa cosa che ho scritto. It's not Latin, it's not Latin, it's all Italian, but... It comes from Dante Elghieri, come come... È una citazione di Dante, dei remi faccia annuali e a Leogard noi oggi diciamo deacqua faccia annuali. We might apply it in the near future. Let's see, I was... this was the end of the presentation, I just wanted to show... because maybe some people would like to know what our water program would look like and there's a website called wetsisacademy.nl and it lists for water technology for the MSC, how it's composed, so how many points you get within the two years, but it also lists more information about other sorts of studies that we have and about the finances for it. And then on, I think here I will show you on the Wetsis homepage, we also have, at the moment, several PhD positions available, of which I have to say that they are, as I mentioned before, we work with the companies, so the companies together in our research program define the topics. and this is just to show a few items. So one is about closed-loop anti-scaling use in integrated concentrate treatment processes. So it's pretty specific. Each year we have about 12 new positions. And, of course, this is a global competition. Many can arrive from any European country. And what you saw earlier about the world, in general it are master's students that went to university in Europe and thereby get to know our program. And, for instance, we're at Wageningen University and then from there joined us for the PhD program. But these are like normal jobs, like open positions, so anybody in Europe could apply for them. and, yeah, more importantly is, more easily to do is either at BSC level, try and do a final, the final year could be done in our facilities. It's possible to do a traineeship if you're a master's student. We've got, I don't know if I can find it directly, but we've got several positions available for BSC internships. They're listed here, for instance, what sort of title there is, who will be the person supervising and what sort of field of interest this would be. We get about 100 master's students each year to do a traineeship. and we have a waiting list of 300 master's students at the moment. But, of course, the one more focused on the topic will be the one selected. On top of that, you're able to participate in the master's program itself, which lasts two years. And if you've followed the master's program, of course, it's more easy to understand what sort of technologies we're developing. And within the master's program, you already also work together with companies and get more information about how to work between universities, companies, and combine different disciplines. So there's various ways in which you might participate with working with the Water Campus. I was able to make an additional work of being an expert on what we're looking at. Thank you, Lorenzo. Thank you very much. Happy take. ... ... ... ... ... ... c'è una concorrenza ovviamente da parte di tutto il mondo e comunque voi potete avere la possibilità di iscriverti, di fare domanda per questi posti di ottonato. Nell'altro sito internet... Su questo sito, wetsesacademy.nl, potete vedere quali sono poi le altre posizioni aperte, potete poi avere anche le maggiori informazioni su tutti quelli che sono i programmi a cui gli studenti possono poi partecipare nel corso della loro carriera accademica. Diciamo che la possibilità più concreta che io vedo al momento è quella di poter trascorrere l'ultimo anno, l'anno di tesi sostanzialmente, e svolgere un girocino, e questo ovviamente mi riferisco alla tesi di laurea specialistica, all'interno della struttura. ci sono una serie di posizioni che poi sono aperte anche per quanto riguarda la laurea triennale, noi aspettiamo circa 300 candidature per 100 posti che abbiamo a disposizione. Avrete, e quindi riferisco in particolare gli studenti di laurea triennale, la possibilità anche di partecipare appunto a questo nuovo programma di laurea specialistica della durata da due anni qui. Potrete o svolgere l'ultimo anno, l'anno di tesi, facendo questo tirocino attribuito presso Welsus, oppure potrete iniziare completamente il biennio da noi e ovviamente questo potrà essere in qualche modo più semplice per voi per capire le tecnologie che utilizziamo, lavorerete a stretto contatto con le aziende, quindi potrete capire anche la sinergia che noi creiamo tra le aziende e gli istituti universitari. Insomma, ci sono una serie di modalità che vi invito a visitare e vi invito a visionare su questi due siti internet se avete interesse a partecipare a una delle nostre iniziative. Grazie mille per l'attenzione. Grazie mille per l'attenzione. Grazie mille per l'attenzione. Allora, c'è qualcuno che vuole fare qualche domanda? Va bene. Allora, chiudiamo questa prima parte della conferenza e iniziamo la seconda parte della conferenza che vede una tavola rotonda in cui i relatori saranno il magnifico rettore, il professore ingegnere Eugène Di Sciasso, il professore Umberto Fratino, l'ingegnere Peter De Jong e Guglielmo Nervini, assessore delle politiche giovanili e noi abbiamo Domenico Fabruzzi, presidente del Confindustria Puglia. Lascio la parola a questo momento, ovviamente è molto interessante per gli studenti perché ci consente di vedere come questo modello di ricerca può essere applicato alla nostra piccola realtà locale. Lascio la parola fra l'altro, il professor Umberto Fratino e la moderatore del Commuldoon Modello. Grazie. Grazie.